La mia definizione di successo è la cosiddetta ikigai, che è un concetto giapponese che unisce quello che uno è capace di fare con quello che gli piace fare, con quello che il mondo è pronto a pagare, con quello di cui il mondo ha bisogno. Quindi questi quattro elementi insieme creano, secondo me, il successo, perché se fai quello che ti piace e sei bravo a farlo, e la gente lo vuole e ti paga, perfetto. Fantastica, fantastica.